La donna ha ucciso il figlio, strangolandolo, poi è salita sul treliccio e si è suicidata. Questa è una delle versioni che in questo momento sta prendendo piede e che trova riscontri sui rilievi della polizia scientifica sulla tragica morte di Viviana Parisi e il suo bambino di 4 anni. La DJ si sarebbe lanciata ad un'altezza di 15 metri. Gli esami sui tessuti della donna hanno confermato la temuta ipotesi, accertando che la consistenza del tessuto varia con l'impatto. Il corpo fu trovato a tre metri dal treliccio. L'ipotesi invece che la donna si è scivolata è stata scartata perché in quel caso il corpo si sarebbe dovuto trovare ai piedi del pilone. Una volta confermato che quello di Viviana Parisi è stato un suicidio, gli inquirenti dovranno poi cercare di capire i motivi che l'hanno portata a questo gesto. Mentre il marito continua ad affermare che Viviana non avrebbe mai fatto del male al figlio, gli inquirenti continuano a indagare sui problemi psichiatrici della donna. In letteratura ha spiegato nei giorni scorsi il procuratore di patti, Angelo Cavallo, esistono case di donne che uccidono i propri figli perché ritengono di doverli proteggere in questo modo da pericoli che vedono nel mondo esterno.